Meno uno termina domani sera alle ore 20 e 30 il conto alla rovescia per gli amanti del teatro di qualità che attendono che si alzi il sipario sulla quinta edizione del premio Licurti. Gli ingredienti pochi e sapienemente selezionati come delle migliori ricette. Cinque rappresentazioni teatrali, una storica location, rinomati attori che hanno calcato palcoscenici internazionali e una direttrice artistica tenace come Eger, Trude Barba. Da domani sera quindi e fino al 2 agosto ritorna a Cava dei Tirreni la rassegna teatrale Licurti che vivrà la sua quinta edizione nella ritrovata cornice della corte rinascimentale di Casa Picella. A condurre la manifestazione la presentatrice Carmela Novaldi. Ad aprire il cartellone degli eventi sarà il centro Art Garage Teatro con la regia di Carmine Borrino che presenterà Francischiello, un amleto re di Napoli con musiche di Lino Cannavacciolo. Uno studio che parte dalla profondita ricerca sulla figura di Francesco II di Borbone ed approda la sovrapposizione spettrale col giovane principe di Danimarca. In scena i rapporti drammaturgici dell'amleto di Shakespeare si fanno pretesto per raccontare, combaciando alla perfezione, ciò che accadeva alla corte di Napoli nell'estate del 1860. Grazie a tutti.